Fiume Latte di Varenna, sull'Ario, dove sorgono gli impianti ittiogenici del Consorzio della Pesca di Como e Sondrio, dai quali ogni anno escono milioni di avanotti per il ripopolamento del lago, ha vissuto una festosa giornata in occasione della visita del Ministro dell'Agricoltura Su Eccellenza Rossoni, che dopo aver visitato il grande incubatorio statale, ha presenziato alla premiazione dei benemeriti della campagna ittiogenica del decorso anno e all'immissione di centinaia di migliaia di avanotti nelle acque dell'Ario Grazie! 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 Grazie!